Un'attività di spaccio che neppure le restrizioni per il covid avevano interrotto è stata scoperta dai carabinieri nella piana di Gioia Tauro, grazie alla denuncia di un padre impotente di fronte alla dipendenza della figlia. 18 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Cabra nei confronti di altrettanti soggetti che utilizzavano Telegram e altre app di messaggistica per mettere in contatto spacciatori e clienti finali di droghe leggere e pesanti, con un giro d'affari stimato in oltre un milione di euro. Le indagini sono cominciate nel marzo del 2020 dopo la denuncia del padre esasperato che impotente di fronte alla dipendenza della figlia si era rivolto ai carabinieri della stazione di Tauria Nova, cittadina dove aveva base l'attività di spaccio, con ramificazioni a Rosarno, Platì e Gerocarne. In quel periodo, essendo in atto alcune restrizioni dovute al covid, per ridurre il rischio dei controlli, gli indagati avevano iniziato a consegnare lo stupifacente in bicicletta anziché con le auto e consegnavano direttamente la droga presso l'abitazione degli acquirenti. Per mantenere i contatti con questi ultimi, visto il divieto di assembramento, tutte le comunicazioni venivano effettuate online con canali Telegram o con altre app di messaggistica dedicati proprio a far incontrare la domanda e l'offerta di narcotico. Sono almeno 50 gli episodi di spaccio che hanno rilevanza penale e che sono stati accertati, con 9 arresti in flagranza di reato. Durante le indagini è stata anche rinvenuta una piantagione di canapa indiana ricavata in un bunker occultato in un capannone agricolo. Lì, 3 metri sotto terra, gli indagati avevano allestito degli impianti idroponici, completi di sistemi di riscaldamento, ventilazione e illuminazione a lampade UV, destinate alla genzione di varie cultivar di canapa indiana, differenziate per il potenziale di induzione alla suefazione. L'indagine, inoltre, ha fatto luce anche sui maltrattamenti che una moglie o una figlia di uno degli arrestati hanno dovuto subire per anni in silenzio, costrette a vivere recluse, quotidianamente umiliate e più volte malmenate.